buongiorno a tutti bentrovati al webinar di oggi intitolato intralogistica nuove soluzioni di sicurezza per macchine impianti prima di tutto una nota di servizio nella dashboard di GoToWebinar avete la possibilità di inserire le vostre domande nella sezione dedicata alle domande e alle quali diciamo noi risponderemo alla fine del webinar ok possiamo partire allora io sono Marco Pilizzaro division manager di Components di Pilz Italia ormai sono quasi 19 anni che sono in Pilz com'è oggi c'è Alessandro al quale passo la parola buongiorno a tutti io sono Alessandro Casalini e da dieci anni ricopro il ruolo di sales engineer Emilia Ovest per Pilz cominciare cominciamo con la presentazione di Pilz, Pilz Italia è un'azienda che offre sistemi e soluzioni per quanto riguarda la functional safety in generale praticamente possiamo offrire anche servizi per quanto riguarda l'analisi di rischi vi dicendo e in particolar modo diciamo ha una gamma completa di prodotti che permettono di realizzare varie tipologie di applicazioni per quanto riguarda poi la consulenza noi abbiamo possibilità di fare tutto quello che è il risk assessment safety comset safety design l'implementation e anche la validazione delle funzioni di sicurezza in particolar modo possiamo anche andare a fare tutta una serie di formazioni di training che permettono poi anche di creare diciamo conoscenza e dare valore al cliente in particolar modo voglio sottolineare la possibilità di avere anche tutta una serie di certificazioni tipo CMSE il CECE il CFS che vengono applicati diciamo tramite l'organo TUV ulteriori servizi che possiamo fornire è il servizio per la cyber security in particolar modo possiamo offrire il security assessment, il security concept e la security verification vediamo oggi quella che è l'agenda nella prima parte del nostro webinar parleremo di safety e security e andremo a toccare quelli che sono gli aspetti della sicurezza e della security nell'ambito interlogistico nella seconda parte parleremo di magazzino e tre elevatori dove avremo la possibilità di approfondire alcune funzioni di sicurezza e alla fine di questa parte faremo una piccola demo nella terza e ultima parte praticamente avremo la possibilità di parlare delle funzioni di sicurezza associate alla GV e anche qui avremo la possibilità di avere una demo conclusiva alla fine avremo chiaramente risponderemo alle domande partiamo ok nell'ambiente interlogistico chiaramente possiamo trovare varie tipologie di impianti e macchine diciamo possiamo trovare palliatizzatori, sistemi di confezionamento, sistemi robotici, apparecchi a teri di sollevamento e vi dicendo in particolar modo diciamo vorrevo sottolineare il fatto che comunque in questo ambiente comunque ci sono due aspetti duali l'aspetto safety e l'aspetto security in particolar modo ci sono chiaramente l'aspetto safety riguarda tutti quelli che sono i componenti dei vari macchine diciamo quindi i funghi d'emergenza della gestione delle elettroserrature e tutte quelle che sono le gestioni di particolari macchine per esempio non so se ci sono normative per quanto riguarda per esempio la GV la ISO 3691-4 oppure ad esempio le normative che riguarda perché i magazzini automatici, la N528. In maniera parallela comunque abbiamo tutte una serie di normative che trattano la parte security, in particolar modo quello che vorrei sottolineare è chiaramente che soprattutto sulla security negli ultimi mesi, negli ultimi anni abbiamo tutto un sistema diciamo di cambiamenti diciamo perché comunque l'aspetto security è un aspetto molto importante. In particolar modo volevo sottolineare quello che è tre aspetti molto importanti, tre punti molto importanti, per esempio l'aspetto security si trova presente in queste tre entità diciamo, quello che è il regolamento macchine per esempio, quello che è la nuova direttiva di S2 e quello che è il Cyber Resilient Act. In particolar modo quello che è il regolamento macchine, voi sapete chiaramente intrurrà, sarà introdotto praticamente il 20 gennaio 2027, è stato chiaramente pubblicato nel giugno 2023 e introduce quelle che sono le due punti importanti diciamo, l'aspetto diciamo della protezione contro la corruzione quindi contro diciamo gli eventuali tacchi esterni diciamo dall'internet e da quello che è la connessione a eventuali entità malevole diciamo. E poi nel risalto il discorso che comunque ci bisogna porre chiaramente una protezione per quanto riguarda quelle che sono le entità terze che possono creare delle disfunzioni delle macchine in sostanza. Per quanto riguarda poi il Cyber Resilient Act questo è un punto molto importante perché questa tipologia di regolamento ha le necessità ci impone diciamo a noi come PILS di fornire tutte quelle che sono le eventuali vulnerabilità. Nel momento in cui trovo una vulnerabilità la devo comunicare al mio cliente e il cliente deve chiaramente poi andare a installare quelli che sono gli eventuali update di security che io vado a fornire per correggere quelle che sono le vulnerabilità. Ovviamente chiaramente a PILS per esempio devo avere tutto un sistema che deve essere il sviluppo dei miei prodotti, del mio software praticamente che sia validato secondo il CRA. E poi c'è il discorso della NIS. La NIS 2 è una direttiva molto importante che pone in risalto l'aspetto della Cyber Security e impone diciamo il risk assessment dal punto di vista di security di quelli che sono gli end user per esempio. Tutti le regole catena diciamo di quelli che sono e anche i fornitori degli end user perché chiaramente se devo fare dei lavori sugli end user non devo creare danno a quello che è l'end user. Chiaramente non è applicata a qualsiasi end user, devono essere gli end user che abbiano un minimo di dimensione, minimo 50 dipendenti oppure un fattorato superiore di 10 milioni. Però chiaramente ci sono degli obblighi dell'end user, sono particolari tipologie di end user, l'obbligo di andare a comunicare eventuali incidenti dal punto di vista security e chiaramente devono entro 72 ore notificare all'autorità diciamo che è avvenuto questo incidente. Sempre collegandomi chiaramente a questa tipologia di programmatiche legate alla NIS 2 quindi proteggere quello che è l'impianto, PILS offre la possibilità di avere delle soluzioni per l'autenticazione e l'autorizzazione. Sono soluzioni RFID, parliamo delle soluzioni pit reader che può essere informato con pulsanti oppure senza pulsanti, con bridge oppure con chiavi RFID chiaramente. Questi pit reader possono essere programmati tramite web server e offrono la comunicazione Modbus TCP, REST API oppure OPC UA. Le chiavi possono essere di diverso tipo, possono essere o programmabili o con permesso fisso oppure colorate per identificare il vario livello di permesso. In più diciamo c'è la possibilità di avere delle soluzioni con beige o sticker che si possono attaccare su su beige esistenti e come novità praticamente abbiamo la possibilità di gestire anche beige di terze parti che rispondono a quelli che sono il protocollo ISO IEC 14443-A oppure ISO IEC 15693. Questo chiaramente permette di andare a fare particolari applicazioni diciamo, in particolar modo per esempio tramite la mia chiave RFID posso andare a creare cinque situazioni particolari, per esempio, in particolar modo abbiamo la possibilità di andare a gestire la visualizzazione delle pagine, delle HMI per esempio, oppure di attivare delle funzioni di PLC, oppure permettere lo sblocco di un'elettroseratura per esempio che permette di permettere l'accesso a una zona solo se sono autorizzato e in particolar modo posso anche andare a gestire quelli che sono la modalità operativa con autorizzazione oppure poi vedremo la soluzione key in pocket. Per esempio chiaramente come esempio di autorizzazione all'accesso ai parametri macchina abbiamo la possibilità come potete vedere da questo video di andare a filtrare persone che possono leggere solamente oppure persone che possono anche a cambiare tipologie, qualche tipologia diciamo di parametro in funzione della chiave e del suo permesso associato. Posso andare chiaramente poi a gestire quello che è autenticare, fare un'autenticazione a più fattori e abilitare la connessione remota. Questo è un tema molto importante che viene un po' sottolineato da quello che è il regolamento macchine e deve essere un tema molto caldo per i prossimi anni perché chiaramente io devo autorizzare la connessione remota solo alle persone chiaramente che possono farlo e devo chiaramente poi anche visualizzare che io sto facendo questa tipologia di connessione e per esempio in questo caso qua ho l'autenticazione a più fattori dato al fatto che posso avere chiaramente una password e più l'abilitazione del pit read tramite la chiave. Il pit read fornisce un'uscita che va a abilitare quello che è il firewall in questo caso qua noi abbiamo il security bridge e il firewall permette poi la comunicazione con i vari dispositivi di sicurezza. Per quanto riguarda poi l'abilitazione c'è la possibilità anche tramite pit read di abilitare delle porte USB quindi possibilità di abilitare delle porte USB solo quando è necessario ma anche come novità abbiamo la possibilità di abilitare quelle che sono le porte ethernet le porte ethernet che possono essere con tensione 24 volte oppure 5 volte. Come ulteriori applicazioni c'è l'applicazione della selezione modale con autorizzazione in questo caso qua chi ha la chiave ha un permesso e tramite quello permesso diciamo può abilitare la funzione di automatico o service per esempio in funzione di chiaramente del permesso che è associato. Io qui praticamente ho due soluzioni pit mode flex visu praticamente nell'altro costituito dal lettore in combinazione con i nostri PLC MB1 o PSS 4000 in queste soluzioni noi possiamo raggiungere il PLD categoria 3 per la selezione modale la si può fare tramite gli elementi P2E 4S oppure dei pulsanti oppure tramite un pannello PILS eventualmente e posso ottenere fino a 8 modi operativi con possibilità di fare una conferma della modalità oppure anche di bloccare la modalità in funzione del processo della macchina. Per chi non usa PLC PILS c'è la possibilità comunque di utilizzare il nostro pit reader sempre chiaramente con un'unità valutativa che viene interfacciata a PLC di sicurezza. In questo caso qua però ho la possibilità di gestire fino a 5 modi operativi. Volevo sottolineare sia nel caso precedente che nel caso attuale io posso fare anche la selezione della selezione modale con l'autorizzazione anche tramite beige di terza parte. L'importante è chiaramente che siano beige che rispondono ai protocolli che abbiamo detto prima. Passo la parola a Alessandro che adesso vi parlerà di EN 528. Grazie Marco, ora partiamo con la parte relativa ai trasolevatori. In questo caso abbiamo una norma tecnica che è la EN 528 che ci prescrive dei requisiti tra cui in particolare la gestione degli accessi alle corsie dei traslo in sicurezza. in questo caso la norma prevede di avere due selettori uno posto all'esterno e uno all'interno sulla macchina traslo quello all'esterno è necessario per fermare i movimenti pericolosi e prevede che la chiave possa essere estratta solo in una modalità di manuale o comunque di macchina ferma e invece nel selettore posto all'interno quindi sulla macchina traslo avrò la necessità di poterlo mettere in movimento manuale per fare le mie varie operazioni di ripristini o quant'altro e poi la chiave potrà essere estratta solo in modalità di automatico è previsto poi chiaramente un accesso che deve essere a porta interbloccata e bloccata in modo che comunque la sicurezza sia sempre garantita e questa è una piccola leggenda del requisito e qui abbiamo una possibile soluzione tramite i prodotti PILS tra cui il pit reader che è stato spiegato prima da Marco che ci permetterà sia di fare il cambio di modalità manuale automatico automatico manuale in sicurezza sia la possibilità di andare a gestire la possibilità di accedere alla corsia del traslo elevatore solo da personale autorizzato e formato e anche la possibilità di fare un tracciamento delle persone che gli operatori che entrano appunto in macchina per lavorare e tutto questo può essere gestito tramite appunto il nostro pit reader il nostro psen and block con maniglia la maniglia in particolare ci permette di avere sempre la possibilità di avere una via di fuga quando sono all'interno perché andrà a sbloccare meccanicamente i ripari e potrà tutto essere gestito tramite il nostro PNOTS BULT2 con CPU MB1 in questa slide vediamo la soluzione key in pocket che è appunto quella che ci permette di gestire in modo sicuro con un livello di sicurezza PLD categoria 3 certificato da TUF Sud l'accesso di più persone all'interno di un'area di lavoro in questo caso sarà la corsia del traslo e tenere traccia di queste persone che entrano e fare in modo che la macchina non possa ripartire fino a che tutte non hanno lasciato l'area pericolosa qui abbiamo un piccolo video di esempio dell'applicazione vediamo che l'operatore si identifica e verrà autorizzato a mettere in stop la macchina passerà poi al pit gate box sul riparo e andrà a identificarsi a fare il login nel sistema e quindi verrà registrato l'accesso della persona numero 1 potrà richiudersi all'interno e quindi nessuno potrà rientrare a meno che non arrivi un secondo operatore che ha la possibilità di sbloccare rientrare e fare sempre la stessa procedura di login quindi avremo due operatori all'interno una volta finite le operazioni un'altra cosa interessante è che si può uscire da un accesso posizionato in una posizione differente l'operatore 2 va a fare il suo logout quando l'operatore 1 dovrà uscire avrà la possibilità anche di andare a fare un check in zone cieche e quindi tramite sempre chiave e pulsante andrà a confermare che nessuno è presente e verrà attivato un timer entro cui lo stesso operatore dovrà uscire e andare a confermare il reset della macchina e far partire il riavvio marco ti ripasso la parola per la tua demo grazie Alessandro prima di passare alla demo volevo un attimo introdurvi quello che è il concetto di connettività tramite EtherCAT e FSOE in particolar modo volevo solo chiaramente evidenziare il fatto che il cross multi 2 in particolar modo l'MB1 può avere un'espansione EtherCAT che può gestire fino a 60 rod in miniera sicura e che chiaramente può scambiare dei bit sicuri fino a 512 bit sicuri chiaramente nella rete dopo ci vorrà chiaramente sempre un master EtherCAT detto ciò passiamo al caso pratico in questa dimostrazione abbiamo preparato un tavolo con due demonstration nella demonstration di sinistra potete vedere che c'è un PLC di sicurezza che rappresenta quello che è per la nostra idea l'impianto il PLC di sicurezza dell'impianto nella demo di destra vedete che c'è un altro PLC di sicurezza che rappresenta il PLC di sicurezza che è all'interno del trasallevatore per esempio i due PLC comunicano tra di loro grazie agli dispositivi della PEPPERINFLUX della serie LS 684 che permettono la comunicazione ottica dei dati Ethernet in particolar modo in questo caso qua dei dati EtherCAT quindi abbiamo l'impianto che ha il suo PLC di sicurezza quindi PLCMB1 che comunica tramite il master FSOE che vedete qua alla sinistra tramite comunica con il dispositivo IndustrialPi che non è altro che un PC industriale al cui interno c'è CODESIS CODESIS in questo caso qua fa da master EtherCAT normale cioè standard quindi nella mia rete c'è il master EtherCAT standard c'è il master FSOE che comunica tramite i due dispositivi di trasmissione e ricezione della PEPPERINFLUX con l'altra demo station che ha anch'essa una è un PLC praticamente che ha un'interfaccia EtherCAT safe in questo caso qua nel trasallevatore quindi nella demo station di l'estra io ho una comunicazione safety con la demo station di sinistra e chiaramente nella destra fungerà da slave nella sinistra fungerà da master l'obiettivo qui chiaramente è passarsi dei dati sicuri quindi scambiarsi dei biti sicuri per esempio se io premo il fumo di emergenza in questa cosa qua nella demo station di destra viene rilevato chiaramente si ferma vado a rilasciare il fungo ripristino e l'informazione passa viene la sicura e il trasallevatore chiaramente viene viene desettato in maniera analoga se io apro la porta l'informazione passa alla demo station di di destra viene del trasallevatore e ferma anche il trasallevatore in questo caso qua chiudo la porta posso quindi poi ripristinare e l'informazione passa nella sicura tramite i due dispositivi che comunicano in maniera permettono la comunicazione fino alla distanza di 150 metri in maniera analoga se dovessi andare a premere il fungo del trasallevatore l'informazione viene passata all'impianto ripristino ripristino localmente qui il mio fungo poi passando chiaramente qua posso ripristinare quello che è l'emergenza del mio impianto la dimostrazione è conclusa torniamo alla nostra presentazione grazie Marco ora ripartiamo con un'ulteriore soluzione che riguarda sempre i magazzini verticali i trasallevatori in questo caso l'hardware di riferimento è il nostro PLC di sicurezza PSS 4000 e grazie alle sue funzioni particolari in particolare la gestione di ingressi analogici monitoraggio del sicuro della posizione assoluta e memorie retentive di sicurezza permette di realizzare un controllo fine della gestione dei pesi caricati nei magazzini verticali in particolare con gli ingressi analogici possiamo andare a indagare delle celle di carico e quindi rilevare il peso dell'unità di carico e verificare che non passi il peso massimo sopportato dal magazzino tramite encoder assoluti possiamo rilevare la posizione fino a PL e le memorie retentive di sicurezza ci permettono di registrare in sicurezza i pesi delle UDC caricati all'interno del nostro magazzino questi tre controlli insieme ci permettono di riuscire a fare una funzione complessa che sostanzialmente riesce a ottimizzare il popolamento del magazzino e permette un risparmio nell'acquisto della scaffalatura in quanto non è necessario dimensionare al massimo della portata tutti i ripiani e tutte le colonne del nostro magazzino ripasso ora la parola a Marco grazie Alessandro da punto di vista pratico ora parleremo della ISO 3691-4 non è altro che la norma che regolamenta quelli che sono i carrelli industriali a guida autonoma in particolar modo quello che possiamo dire su questa norma è che l'ultima pubblicazione del 2023 è divisa in sei capitoli e cinque annessi in particolar modo dobbiamo sottolineare il discorso del capitolo 4 che ci dà l'elenco delle funzioni di sicurezza e su una tabella 3 devono essere definiti tutti quelli che sono i PL da raggiungere in questi casi qua quali sono le funzioni di sicurezza considerate nel capitolo 4 qui ne vediamo alcune per esempio quello che volevo sottolineare di più era quello per esempio del controllo di velocità o in particolar modo quello dell'emergenza per esempio oppure la gestione del rilevamento delle persone nel cammino dell'AGV e guarda caso anche qua c'è sempre il concetto di modo operativo infine parleremo anche di quello che è i vari richiesti per quanto riguarda le zone operative dove deve agire il carrello industriale vediamo un attimo quelle che sono le principali quindi il controllo di velocità è necessario perché chiaramente nel caso in cui quello che è il carrello vada più veloce di quello che è la velocità definita dal costruttore deve stoppare tutto quanto in realtà dobbiamo anche considerare il fatto che il discorso velocità è molto importante vedremo in funzione della zona operativa in cui l'AGV lavora e in particolar modo anche della stabilità del carrello nel senso che chiaramente se io vado troppo veloce e vado a curvare per esempio se vado troppo veloce il carrello potrebbe ribaltarsi per esempio poi il concetto poi della rilevazione delle persone è molto importante in particolar modo la norma come vedete considera vari casi nel caso in cui questo rilevamento possa essere fatta un'azione di booting o un'azione di override o in particolar modo diciamo dipende molto chiaramente dalla tipologia di rilevazione che viene fatta chiaramente la norma parla di bumper per esempio o virtual bumper virtual bumper chiaramente sono quelli che sono i laser scan in generale laser scan praticamente che sono una proposta di pizza nel senso che noi abbiamo la possibilità di avere il nostro dispositivo sen scan può essere applicato a quelli che sono i carrelli automazione autonoma chiaramente esiste la possibilità di avere della connessione tra di loro per esempio di un master più 3 slave e la possibilità chiaramente di gestire quelle che sono le aree in maniera dinamica in maniera tale da in funzione della velocità posso cambiare quelle che sono le varie zone set le varie aree di sicurezza praticamente vediamo qui ad esempio di un agv semplice dove chiaramente per esempio abbiamo un master abbiamo uno slave e il master ha il compito di leggere quelli che sono gli encoder provenienti da quello che è l'agv praticamente il master quindi gestisce quello che è anche la gestione di tutte quelle che sono le varie zone di aree in funzione della velocità e riesce anche a capire quando viene in sostanza girare a destra o sinistra in sostanza il tutto viene gestito da dispositivi tipo mypnoz o mypnoz mc0 che sono dispositivi molto semplici che possono andare a gestire funghi e eventualmente le ossd del master per esempio no? voglio ricordare anche che il master ha la possibilità di avere più coppie di ossd in particolar modo può avere fino a tre coppie di ossd quindi posso gestire anche lasciatemi dire il rallentamento mi assicuro volendo per quanto riguarda sempre poi la norma la 3691-4 abbiamo la possibilità anche qua di riparlare di quello che è la modalità operativa in particolar modo diciamo vengono menzionati tre moduli operativi modalità automatica manuale di maintenance praticamente e anche qua il concetto è sempre quello nel senso che c'è la necessità di autorizzare la selezione modale diciamo no? e questa cosa qua può essere fatta diciamo tramite per esempio i nostri dispositivi altro concetto importante è legato al comportamento del carrello industriale, del RGV in funzione delle zone operative la norma parla di tre zone operative operating hazard zone e poi parla di due altre due cioè restricted zone e confined zone in particolar modo queste due zone sono l'accesso a queste due zone è permesso solo se si è autorizzati anche qui il concetto rimane quello l'autorizzazione per avere la garanzia chiaramente che le persone siano formate e sappiano quello che fanno in sostanza l'annesso riporta varie tabelle in particolar modo ci sono due tabelle tabella A1 e A2 dove potete vedere per esempio che in funzione degli spazi che la GV trova praticamente lui può deve fare deve attivare o anche fare operazioni di muting diciamo e deve fare anche una speed monitoring quindi certe operazioni possono essere fatte solo se ho un controllo velocità chiaramente in questo esempio possiamo vedere quello che è la gestione di una GV complesso praticamente tramite il prozzo multi due in particolar modo qui abbiamo un MB1 che può gestire il pit reader e quindi possibilità di fare la possibilità di fare la selezione modale quello che abbiamo detto prima no automatico manuale e il maintenance possibilità di visualizzare lo stato delle delle GV tramite delle uscite gestione delle funghi e in particolar modo in questo caso qua abbiamo che il prozzo multi due il MB1 ha un'espansione dedicata che va a ospitare quelli che sono di encoder i due encoder praticamente e vedremo poi avremo la possibilità di fare un confronto tra i due encoder il laser scanner viene connesso al prozzo multi due e la selezione delle aree viene fatta tramite cablaggio dal prozzo multi due sugli ingressi del laser scanner oltre a questa cosa qua chiaramente in questo ambiente troveremo chiaramente dei dispositivi di navigazione dei pc di navigazione che potrebbero leggere comunque le informazioni tramite UDP quindi può leggere quelli che sono gli oggetti gli ostacoli che trovano nel percorso tramite via UDP dal laser scanner e chiaramente con l'aspetto security una cosa importante la connessione a questo dispositivo viene viene regolamentata dal security bridge security bridge chiaramente che ha l'obiettivo di creare un firewall praticamente che permette di selezionare le dispositivi ether di che in questo caso sarebbe laser scanner e il prozzo multi due passiamo ora alla demo dove avremo la possibilità di vedere come possono essere settati i vari blocchi di sicurezza nel prozzo multi due tramite il prozzo multi configurator 11.4 eccoci qua nella schermata di configurazione del prozzo multi configurator qui come potete vedere abbiamo configurato un mb1 con l'espansione 2mm che gestisce due encoder ci sono chiaramente poi le possibilità di avere fino a 12 espansioni e alla destra e ho anche configurato un modulo ethercat che fa da ethercat fsoe master chiaramente ma fa anche da slave per il master standard di ethercat se andiamo sul programma utenti diciamo la prima cosa che possiamo andare a evidenziare è legata al fatto che nel mio programma utente posso gestire qui tre modalità operative che abbiamo detto prima quindi l'automatico manuale e maintenance questo lo posso fare grazie è il pit reader che è connesso alla mb1 e dal punto di vista pratico posso andare a selezionare i tre ingressi posso andare a definire quelli che sono eventuali gestioni di input di acknowledge o di input di lock eventualmente poi c'è la possibilità di avere anche la gestione delle chiavi nel senso che io ho possibilità di definire una modalità ulteriori service per esempio potrebbe essere quella maintenance e ho la possibilità di definire il comportamento della selezione modale nel momento in cui io vado a togliere la chiave detto ciò io ho la possibilità chiaramente di utilizzare queste informazioni nel programma posso anche o anche un blocco che permette di visualizzare su delle uscite standard l'eventuale selezione attivata oppure posso comunicare via ethercat chiaramente dando un'informazione al controllore principale vediamo poi chiaramente quelli che sono le configurazioni dei blocchi che ci interessano quelli delle encoder io ho la possibilità di dichiarare l'encoder abbiamo due encoder posso definire quella tipologia di encoder se è una htl ttl seno coseno vi dicendo vado a definire quelle che sono gli incrementi per per giro e vado praticamente poi definire quella che la massima frequenza posso anche andare a selezionare un monitoraggio della tensione delle encoder e posso anche definire praticamente anche un'unità di misura particolare in particolar modo in questo caso qua ho scelto di avere una posizione in centimetri e una velocità in centimetri al secondo poi il blocco permette anche di definire dei filtri filtri che in caso di problematiche di compatibilità elettromagnetica vengono utili per andare un po' a animare gli eventuali disturbi questo lo si fa chiaramente sia per il primo encoder che per il secondo encoder poi ho un blocco che permette la comparazione delle due velocità un safe speed comparison questo blocco qua permette di comparare le due le due velocità chiaramente provenienti dalle due encoder della gv e ho la possibilità di stabilire se una ruota gira più veloce dell'altra ruota oppure se ha la stessa velocità questo permette anche di identificare chiaramente se la gv sta girando verso destra o verso sinistra per esempio chiaramente quando io giro una delle due ruote deve andare più lenta la toleranza chiaramente permette vari filtri nel senso che io ho la possibilità di fare una toleranza assoluta o percentuale e chiaramente le posso introdurre e poi ho anche la possibilità di introdurre una toleranza di tempo questo chiaramente permette chiaramente poi di andare a selezionare a quelle che sono le varie aree del del dell'azascandano e quindi dal punto di vista pratico qui plasmulti due fornisce un blocco speciale che permette di andare a importare quello che il progetto dell'azascandar il progetto delle varie aree ricordo che possiamo raggiungere fino a 70 aree eventualmente e quindi da punto di vista pratico io posso andare a importare il file xml che mi va a definire quelle che sono i varie zone set in questo caso qua per esempio ho fatto sei zone set e posso andare a poi a associare i vari zone set a delle condizioni logiche che io vado ad associare a questi come siete qua perché questo è il mio laser scanner con le varie uscite che vanno poi a questo diciamo il blocco che gestisce il laser scanner e con le mie uscite vado sull'input del laser scanner e queste sono le varie condizioni per attivare le varie zone set ulteriori blocchi possono essere interessanti per quanto riguarda le applicazioni sulla gv sono quelli legati per esempio alla speed monitoring con la possibilità di gestire fino a 12 c soglie di differenti differenti di speed monitoring abilitando anche delle tolleranze cioè io posso andare a superare quello che è il livello per un po' di tempo diciamo un tolerance time per un certo periodo e anche per un certo valore in termini percentuali posso poi anche andare a definire un save speed di tipo 1 oppure un save speed di tipo 2 posso definire anche quelli che sono le direzioni della gv io posso andare analizzare la gv e andare dire se sta andando verso in avanti o verso indietro posso nelle gv particolari dove c'è anche lo sterzo andare a definire anche la possibilità di sapere se lo sterzo sta girando verso destra verso sinistra questo lo posso fare tramite un blocco di posizioni sicura questo blocco di posizioni sicura permette di andare a definire quelle che sono delle zone quindi le sorte di camme che mi possono permettere praticamente di definire in qualche maniera in che come è settato diciamo in quel momento il mio sterzo diciamo è chiaramente una misura di tipo incrementale quindi cosa significa che io ho bisogno comunque l'avvio di un set reference praticamente che mi permetta diciamo di definire una posizione di zero poi ho la possibilità anche di definire se sono una certa posizione del blocco precedente mi dava un range questo mi definisce praticamente se sono all'intorno di una definita posizione e qui una volta che ho definito la mia posizione posso definire una lasciatemi dire una soglia di una soglia diciamo di posizione in posizione e una soglia di non posizione lasciatemi dire e quindi dal punto di vista pratico questo è un blocco che permette di definire anche qui una posizione sicura con questo ultimo blocco io ritengo concluso la mia demo e possiamo passare alla presentazione grazie Marco in realtà con la presentazione abbiamo finito e passiamo a rispondere ad alcune delle numerose domande che ci sono state poste ok allora per rispondervi riaccendiamo le nostre webcam e partiamo con la prima domanda che è se abbiamo in programma corsi di formazione che riguardano gli AGV ma questo posso rispondere io allora potete trovare le due sessioni che avremo programmato per il 2025 sia sul nostro nuovo catalogo della formazione e a breve poi ci saranno anche gli aggiornamenti delle date sul nostro sito Pilz Academy una seconda domanda che chiedo a Marco a te di rispondere cosa è possibile fare tramite REST API via REST API possiamo fare le stesse cose che si possono fare per il web server diciamo devo ricordare che il pit reader può essere configurato tramite web server ed è un REST API server di tutto per tutto diciamo quindi se io ho un PLC che ha integrato un REST API client oppure un ECMI per esempio io posso fare tutte le operazioni che posso fare con il web server praticamente qualche esempio ho possibilità di leggere il security ID ho possibilità di fare operazioni di GET e di POST quindi GET significa lettura POST significa praticamente che vado a scrivere praticamente quindi da punto di vista pratico io posso andare a per esempio se ho una chiave deve essere inserita in una lista una block list quindi è una lista che permette di eliminare una chiave dalle possibili utilizzabili io posso far via REST API ma l'importante è che sia un client diciamo quindi da un punto di vista pratico è un protocollo molto potente che permette di fare operazioni che per esempio via Modbus non riesco a fare ok grazie Marco una ulteriore domanda non è chiaro come funziona la modalità blind spot sempre Marco se vuoi rispondere la modalità blind spot diciamo probabilmente è riferita diciamo a quello che è la soluzione key in pocket soluzione key in pocket è una soluzione che permette la gestione del riavvio in attesa nelle impianti dove ci sono delle zone cieche non blind sta per cieco io ho la possibilità di lavorare con un reset sequenziale cioè l'operatore va all'interno verifica che tutto va a posto all'interno del bloc multi c'è questo blocco blind spot che riceve diciamo segnali diciamo da un pulsante che è l'operatore deve dimere e quindi dopo aver fatto la verifica della zona di zona cieca e lui lancia un timer e entro questo tempo diciamo che viene definito dal blocco devo andare a fare un secondo reset per chiudere poi il ciclo diciamo di ripristino della dell'applicazione della macchina e quindi chiaramente chi deve fare questa cosa qua è l'ultimo che lascia diciamo la zona pericolosa in sostanza grazie Marco la prossima domanda quanti lettori può gestire pnoz multi 2 allora il multi 2 in particolare sarà necessario utilizzare la cpu pnoz mb 1 e a questo dispositivo la possibilità di gestire fino a quattro lettori pit reader collegati contemporaneamente l'altra successiva domanda come avviene il rilevamento della posizione assoluta con il 4000 e allora il plcpss 4000 può gestire la posizione assoluta tramite la connessione con encoder con protocollo ssi e quindi un'altra domanda a cui risponderò sempre io è relativa a informazioni sul sul sovradimensionamento degli scaffali cioè che cosa intendiamo in questo caso particolare dobbiamo fare ad esempio l'esempio di un magazzino in cui debbano essere stoccati prodotti di natura differente per cui potremmo avere ad esempio un pallet di fardelli di acqua e ad esempio un pallet di carta igienica in questo caso avranno dei pesi notevolmente differenti l'uno all'altro una prima alternativa è dimensionare tutti gli scaffali al massimo della loro portata e quindi andranno tarati sul peso massimo che andrò a stoccare mentre invece con la nostra soluzione abbiamo la possibilità di gestire in modo flessibile il peso e in particolare in modo sicuro e quindi possiamo declassare sostanzialmente la portata del mio magazzino e quindi un declassamento della portata significa un acquisto di materiali meno costoso e quindi un risparmio sempre però senza abbassare i livelli di sicurezza dell'impianto un'altra domanda e direi l'ultima perché ormai il tempo a la nostra disposizione è finita ci viene chiesto quante posizioni può gestire il Pnoz Multi 2 Marco se vuoi rispondere tu qui probabilmente stanno chiedendo quanti blocchi SPR quindi safe position range possiamo gestire per quanto riguarda questa tipologia di applicazioni quindi di rilevamento della posizione io posso rilevare fino a 40 blocchi quindi 40 posizioni diverse praticamente che permettono diciamo di crearmi diciamo una sorta di camma elettronica la camma elettronica incrementale chiaramente ricordo che comunque deve essere comunque l'avvio deve avere un riferimento praticamente quindi io posso avere fino a 40 range di differenti in sostanza ok ok prima di concludere vi ricordo che ci sarà riceverete un sondaggio nel quale vi verrà chiesto chiaramente se volete approfondire queste soluzioni che vi abbiamo presentato e chiaramente vi chiederemo anche un parere sull'attuale webinar e eventuali futuri in sostanza vi saluto tutti grazie buona giornata a tutti